Meditazione per armonizzare ed equilibrare il terzo chakra. Questo chakra, noto anche come mani pura, è associato al potere personale, all'autostima, alla determinazione, alla forza di volontà. Da qui deriva la nostra capacità di porre confini, di agire, di cambiare. Si trova nell'area dell'addome superiore, intorno al diaframma, all'altezza del plesso solare. Preparati per la meditazione. Trova un posto tranquillo, dove non verrai disturbato. Puoi sederti su una sedia o in posizione di loto su un cuscino. Inizia con respirazioni profonde e consapevoli. Inspira lentamente dal naso, permettendo ai tuoi polmoni di espandersi completamente. E poi, espira lentamente dalla bocca. Con ogni espirazione, lascia andare tensioni e pensieri. Ora porta la tua attenzione alla sommità della testa. E immagina come una doccia che scivola calda su tutto il tuo corpo, portando una sensazione di rilassamento, che scende lentamente, rilassando ogni parte del tuo corpo, dalla testa ai piedi. Ora porta la tua attenzione all'area dell'addome superiore, all'altezza dello stomaco. E immagina un'energia calda e luminosa in questo spazio, irradiante un colore giallo-dorato. E mentre espiri, immagina questa energia gialla che diventa sempre più luminosa e vibrante. Mentre espiri, senti che qualsiasi blocco o tensione lascia il tuo corpo. visualizza questo chakra come un fiore di loto giallo-dorato che si apre lentamente, petalo dopo petalo. senti come questa apertura ti porta a un senso di forza, di fiducia, di determinazione. E pian piano ti senti sempre più forte. ora pensa a qualsiasi emozione o esperienza che potrebbe aver bloccato questo chakra. A una circostanza che stai vivendo che non sta andando bene. il blocco potrebbe essere legato a problemi di autostima, a potere personale o a decisioni importanti da plendere. Accetta queste emozioni senza giudicarle. Queste esperienze fanno parte della tua vita. ma immagina di lasciare andare ogni tensione con ogni espirazione, liberando spazio per energia nuova e positiva. Mentre respiri, ripeti mentalmente sono forte, sono forte, determinato, determinata, sono degno, degna, ho il potere di realizzare tutti i miei obiettivi. Sono forte, sono degno, ho il potere di realizzare tutti i miei obiettivi. Riconosci che hai il diritto di agire con fiducia e forza e di influenzare positivamente il mondo intorno a te. continua a respirare continua a respirare in questa consapevolezza. Ora inizia a portare la tua attenzione al tuo corpo. Muovi delicatamente le dita delle mani e dei piedi e pian piano riconnettiti con il mondo fisico. Ora immagina delle radici che crescono dai tuoi piedi o dalla base della tua spina dorsale penetrando profondamente nella terra. questo ti aiuterà a sentirti ancorato e centrato dopo la meditazione. Prenditi ancora un momento per ringraziare te stesso o te stessa per aver dedicato questo tempo all'armonizzazione del tuo terzo chakra. la gratitudine aumenta l'efficacia della tua pratica meditativa. Quando ti senti pronto pronta riapri lentamente gli occhi muoviti lentamente con consapevolezza mantenendo la connessione con le sensazioni e le intuizioni che potrebbero essere emerse durante la meditazione. Se vuoi prendi nota di qualsiasi esperienza pensiero o intuizione sia emersa. questo può aiutarti a comprendere meglio il tuo viaggio interiore e il processo di guarigione del tuo terzo chakra. interiore l'organizzazione di puFO virtuale virtuale attuale 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 attuale